probabilmente sfrutteremo il mare quindi ci faremo una bella passeggiata e staremo al mare senza dubbio in zona o andrà fuori? no 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 assolutamente in casa nonni al lavoro o starete con la famiglia anche a Pasqua? ma sicuramente sì che cosa farete? ma niente di particolare, solite cose una passeggiata sul lungomare? anche, anche insieme a questa splendida creatura? sì sì, eh? qua sì? nonno, lì eccola qua, ciao saluta? ci aspetta un lungo weekend? avete progetti? io personalmente no, visto che sono fuori per lavoro quindi ne approfitto per stare in famiglia ok, lei invece? io in famiglia, ritornano dei familiari che lavorano fuori e quindi approfittiamo per una rimpatriata non esco come mai? ma aspetto più in là per andare in vacanza domenica vado a pranzo fuori rimarrà in zona o una gita fuori porta? a seconda di dove arrivo senza nessun programma dove vedo un posticino carino vi fermo da solo o in compagnia? ho mia moglie sempre pranzerò con le mie figlie che vengono da Milano trascorrere la Pasqua qua a Senigallia io vado qualche giorno a Macerata ho un'amica laggiù la passo laggiù e non è tanto distante comunque una gita fuori porta? meglio che niente è a casa, aspettiamo nostra figlia che studia a Venezia per cui ritorna a casa per qualche giorno quindi in casa progetti per le vacanze nei prossimi mesi oppure non si pensa a questo? no, no, ancora no, sinceramente no io sono di Bergamo e sono venuta alla casa al mare godrò questo sole, questa meraviglia di mare quindi ama Senigallia? molto, molto, sì è una vista che viene qui quanti anni sono signora che viene qua? allora sono 20 anni andiamo a una festa, festeggiamo ecco lei oggi è in bicicletta anche nella fine settimana farà un giro speriamo di poterlo fare, sì fuori dagli impegni della famiglia, volentieri è un appassionato di questo sport? sì, abbastanza, quando il tempo permette il lavoro e il resto del tempo domenica è invece in famiglia? in famiglia, nonni, zii una tradizione dice quello ed è la zona, abita qua a Senigallia? Iesi quindi questa mattina è arrivato direttamente da Iesi adesso devo tornare, sarà un problema però proviamo Marco, lei è titolare di un ristorante e gestore di una spiaggia abbiamo visto anche le persone al lavoro siete pronti per accogliere i senigallesi e non solo? siamo pronti ancora, non definitivamente però ci stiamo preparando per accogliere perlomeno i turisti pasquali e i nostri ospiti con cittadini e quant'altro che arriveranno perché ho visto che il tempo sarà bello il fine settimana quindi aspettiamo parecchia gente ecco, ufficialmente la stagione balneare per voi quando partirà? la stagione balneare partirà il primo di maggio come sempre quindi faremo un primo di maggio sempre in spiaggia come tutti gli anni con i nostri clienti e speriamo che la stagione sia buona quest'anno perché le prerogative e le ansie sono tante aumenterete i prezzi? c'è un ritocchino ma poco 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 sono 4 anni che non ritocchiamo quest'anno più o meno sarà un 5% d'aumento grazie a tutti